Ecco la mia palestra, invece di andare in palestra chiuso dentro delle mura, venite qui a fare un po' di ginnastica. Vi fa bene e respirate aria pura, però quest'anno è dura per davvero. È più di due mesi che non piove, a parte due spruzzatine, e la terra va un po' smossa, perché sennò quest'inverno veramente non si semina niente. Con sempre a 38, 37, anche 40 gradi, è diventata come la pietra la terra. Abbiamo messo già qualche cosa da inverno, il cavolo nero, sul cavolo nero e sul radicchio c'è la rete, perché c'è un sacco di colombacci che non hanno niente da mangiare, e allora vengono a mangiare le foglie tenere sia del cavolo nero che del radicchio. Molte piante si sono seccate, i pomodori, i faciolini, tutto. Però ormai bisogna abituarci a questo clima subtropicale, perché sì, piano piano, anche noi avremo un'estate caldissima. Quindi i pomodori hanno smesso di fare. I fagiolini che si sperava con tanti fiori che ci facessero il frutto, invece, non sono riusciti ad allegare niente. Ciao, alla prossima! Speriamo che ci aiuti il tempo!